Andrà a sentenza il 23 dicembre prossimo la decisione del TAR di Roma sulla vicenda Alta Velocità nel Cilento. Una vicenda complessa, quella che decide il destino di decine di comuni ricorrenti al Tribunale, il parte coesi assieme ad associazioni nate per l'occasione, nel contrasto delle decisioni progettuali che merita approfondimenti e ulteriori discussioni prima di una sentenza definitiva, meramente amministrativa. E questo è il senso della pronuncia del Tribunale amministrativo di Roma. Un rinvio al 23 dicembre dilaterebbe i tempi per ulteriori confronti e concederebbe altri mesi per cercare soluzioni che siano anche di merito. Una vicenda complessa, il nuovo progetto dell'Alta Velocità, approvato e già a gara, finanziato con parte dei fondi del PNRR, è una spina nel fianco per moltissimi comuni del sud della provincia di Salerno, decine quelli ricorrenti nei mesi scorsi innanzi al TAR di Roma. Una richiesta chiara, l'annullamento del decreto dei Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura, favorevole al nuovo tracciato previsto da RFI. Un percorso di quasi 60 chilometri in più rispetto a quello attuale per il quale la spesa prevista è di 30 miliardi di euro, non interamente coperta dalla Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Pessimi gli impatti ambientali, il nuovo tracciato attraverserebbe aree fortemente esposte a criticità idrogeologiche, sismiche senza considerare lo sfondamento di montagne per realizzare gallerie tutte ricadenti in zone parco e di riserva naturalistica. Contrari alle disposizioni progettuali molti comuni costieri come Casalvelino, Ascea, San Giovanni Appiro e Vibonati, solo per citarne alcune. La delocalizzazione della nuova tratta a alta velocità che doppierebbe la tirrenica a rischio di depotenziamento distruggerebbe il turismo. Sulla vicenda si sono espresse in modo aspro anche alcune associazioni nate per contrastare l'idea progettuale, mentre alcuni sindaci hanno favorito momenti di confronto con la cittadinanza. Il primo cittadino di Castelnuovo-Cilento, Eros Lamaida, ricorrente innanzi al Tar di Roma, a commento della decisione del Tribunale, rinnova l'impegno per quella che è una battaglia di progresso e civiltà.